buongiornissimo buongiornissimo siamo al Mcdonald da Bologna io sono Fembo ragazzi mi conoscete perché oggi ho fatto un video con lui dove mi ha fatto lo scherzo ma in realtà non era tutto previsto, c'era completamente l'accaso di giuro non era previsto non era previsto, mi è venuto così io non l'ho ancora testato in nuova però dovrebbe essere sistemato non lo so dovevi spoilerarlo proprio almeno così la gente era più emozionata ma non lo so in realtà non l'ho ancora provato di nuovo adesso ordiniamo ordiniamo ho soffregato un po' sta Fembo così almeno facciamo le cose per bene alla fine mi ha dovuto aiutare Fede alla fine mi ha dovuto aiutare Fede ad ordinare perché non sono capace hai tre fotocamere cavolo si ho tre fotocamere hai visto? vero un nuovo telefono vero? cosa stai facendo? no sto facendo dei test per vedere se è riattivo yes direi di si direi di si signor Fede ti senti osservato eh ho visto ma comunque a parte tutto cosa ne pensi di questo? Samsung Galaxy A30 è fighissimo quanto l'hai pagato? 100? se non sbaglio ottimo a fare bello fantastico ehm bianco 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 eh si grazie grazie Femo confrontiamolo col suo iphone vabbè 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 credo che non ci sia paragone io sto facendo veramente vedere gli affari tuoi del tuo iphone su youtube ahahahahah vabbè non c'è niente di particolare nella home no ma che c'è Fede che vuole hackerare il mio canale no che hai fatto no ma questa è la raga l'ultima parte bellissima di Matteo il nostro amico qua dov'è ecco guarda guarda calcolami calcolami questo Matteo è per vendicarci calcolami calcolami Fede calcolami sentite tutti ma che calcolami questo va tutto su youtube no ma che gare questo va tutto su youtube deve arrivare la roba eeeh eeeh che due che deve arrivare la roba ragazzi vi do uno spoiler quando arriverò a quando arriverò a 100 iscritti farò uno speciale al mcdonald vi spiegherò perchè una cosa molto speciale andate su sul canale Femo andate a visitare il mio canale Femo quando mi sta per superare quegli iscritti mi sta crescendo la barba da qua ovviamente non si vede ma sta crescendo la barba per capire di quanto queste e di queste tre fotocamere qual è la funzione perchè questo telefono riprende con due fotocamere Fede Super Mario Super Mario dicevo quando questo telefono riprende con due fotocamere no ok anche se ne ha tre perchè la terza fondamentalmente serve a questo questo è il primo angolo ok quindi c'è questo bellissimo ragazzo così che lo vediamo così questa è la terza fotocamera che è top vero è il grand'angolo è il grand'angolo cioè guarda la mia mano quanto è micro cioè per farvi capire si non posso vedere la pratighissimo perchè anche nella nuova iphone 11 c'è mai non ce l'ha perchè ne ho una si si ragazzo essenzialmente adesso ehm cioè adesso vedete ci sono quelli che dicono eh ma perchè perchè non hai detto la funzionità della seconda fotocamera perchè questo telefono riprende con due fotocamere cioè ne ha tre di fotocamere riprende con due fotocamere allo stesso tempo invece c'è l'altra la terza fotocamera che è quella che sta più in basso che appunto riprende capito Fè no? che appunto fa il grand'angolo invece quelle due in alto riprendono allo stesso tempo dai Fè facciamo una storia tiktok dai dai tiktok Fè dai nooo proprio a lei non li ispira tiktok eh? non ti ispira tiktok ma si ma si guarda le meme su tiktok ah tipo queste guarda tiktok quando carica ah ma cos'è questa roba eh no non posso però non di copyright ah copyright oh no 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 uuuh pam 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 cos'è ma cos'è cars? la macchina del futuro vabbè andiamo con sto copyright eh no no uuuh 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 sono succose guarda anche il meme succosissime altro che cattivissime c'è purtroppo non è come nelle pubblicità perchè nelle pubblicità è solo marketing marketing quindi rendono molto più buono nella vita reale esatto no si si non è così esatto non sembra così aspetta unboxing vai unboxing del panino tadan gran crispy mac bacon con doppio bacon guarda quanta roba abbiamo preso eh si si guardate raga c'è stava per ribaltare il panino e stava per finire male no raga c'è c'è stava per ribaltare tutto il ca- cioè manca il mio non ci credo manca il mio eh mi hanno fattuto il panino non è un po' esagerato? beh c'è un casino di roma ah roma ma cos'è? che cazzo è? un pezzo di un cetrolino è un cetrolino è un cetrolino penso che addirittura una volta ho aspettato un'ora e mezza per farmi mandare il mio piatto è proprio il mio non doveva doveva non arrivare non è mio però il mio non doveva arrivare aspetta forse è mio è mio mio almeno c'è qualcosa però non ha un tavolino quello è il problema oh raga vi svelo un trucco vi svelo un trucco sapete perché qua ci sono questi due buchi? ah perché con la cannuccia si mette la cannuccia qua nella bibita e poi si mette il panino qua sopra si versano le patatine ehm filma bene si versano le patatine qua fai il grandangolo magari si vabbè si versano le patatine qua e oh cazzo si ma io vorrei mangiare io vorrei mangiare eh unboxing unboxing del panino di big mac cazzo che cosa è il grandangolo? vaia buonissimo mmm mmm che buono ah insergo delle patatine Oh mmm buono fai mmm buonissimo ah non ho mai un reso un po' particolare non so tipo un maione troppo mmm mm quanto è buono mèche e anche poco salutare vabbè però è buono devo venire più spesso al mcdonald adesso sono sporco dovete venire spesso al mc vedete cosa vi perdete zero vodka, zero calorie senza cosa stai dicendo? no no va bene scusami invece quella senza caffino come si chiama? è quella cotta è quella con il tappo d'oro ho paura che attraversi la strada di me no no va paura fede adesso facciamo un test su di lei ok? fede un test lei preferisce no aspetta mi hai fatto vedere il mio telefono no 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 vai tranquillo allora lei preferisce fra tutti i primi del mcdonald gran crismi mcbacon o big mac gran crismi mcbacon gran crismi mcbacon ok con l'insalata al big mac vero? si si buono rap dai ci ho provato mannaggia no ci ho riprovato adesso io ci sono non è come l'altra volta che non c'ero e mi ha fatto tutto la rosa mobile vai tranquillo fiedi che ci riuscirò vai tranquillo fiedi che ci riuscirò si fulo ma una cosa? unboxing unboxing eh ma troppo tardi l'hai aperto no ho già aperto me li dai un po' cosa fai? eh no scusami tan 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 guardate come è soffice guardate come è soffice è soffice è buono metta zoom aspetta aspetta fermo ok hai messo zoom vai guardate come è soffice è buono no non è vera tutta una questione di marketing inventata da mcdonald è per fare i soldi però è buono eh grazie per lo spoiler grazie mille gentissimo è uno spoiler ti foto il succo acce no oh che oh il succo acce no il succo acce questo non è una small mobile questo è un succo acce però voglio bene eh vabbè te lo pigite ma vabbè questi femo come puoi dire che mangiano continuamente solo mcdonald e nutella questi femo ne esiste uno e uno solo di femo il sottoscritto ah ecco quello davanti a me giusto io ah vabbè dai perché cica cica è italianese allora cosa fai ancora te a bloccare dai dai vabbè ridi mi denuncio che cazzo vuoi ancora lo so che mi hai rubato il panino dai ma dai non sono gecko vabbè sono appena usciti dal mcdonald ah madonna mia che faticaccia no comunque come sempre niente non sono riuscito a far lì buono ma poco salutare non sono riuscito a far lì lo scherzo purtroppo manneggio oh vedi il test del samsung al buio ora è proprio il buio totale questo test veramente è più buio del previsto quel mcdonald è lì quindi siamo appena usciti quindi niente adesso non torniamo a casa signor femo alla prossima alla prossima ciao ciao fede ciao ciao niente spero che questo video vi sia piaciuto spero che vi sia piaciuto questo questa cena al mcdonald sempre in compagnia di femo e quindi noi ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale con il tasto di iscriviti fatemi sapere anche della qualità video di questo nuovo telefono e quindi noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ah femo una cosa aspetta un attimo stai sento femo io arriverò tornerò ehehehe femo vai tranquillo femo fidati che tornerò ha ha ha